Sì, sto tornando a Sant'Oggi, dopo domani No, beh no, ci mancherebbe La promiezione all'esterno del corpo comporta che la cittura non è inutile La promiezione all'esterno del corpo comporta che la cittura non è inutile La promiezione all'esterno del corpo comporta che la cittura non è inutile La promiezione all'esterno del corpo comporta che la cittura non è inutile